La Regione dovrà riesaminare il progetto prospettato da un'associazione di proprietari di terreni di Tripi per capire se può rilasciare il nulla osta idrogeologico e poi verificare se per quel progetto si è effettivamente richiesto il preventivo rilascio del nulla osta. Questa è la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha colto in parte l'appello proposto dall'associazione Colla Secca Galvagno Torrente in Marotta, rappresentata dall'Avvocato Natale Bonfiglio. Aveva presentato prima ricorso al Tare e poi appello al CGA contro l'assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea e i comuni di Racuia, Leonforte, Prizzi, Castellammare del Golfo, Caltanissetta, Petrosino, Caltabuturo e Itala. L'associazione aveva chiesto l'annullamento del decreto regionale del 31 maggio 2018 con il quale non era stato inserito dai progetti ammissibili a finanziamento il progetto di ripristino, ristrutturazione e ammodernamento della strada interpoderale con la secca Galvagno Torrente in Marotta, un'opera che avrebbe consentito il collegamento sia interno tra i fondi nella disponibilità degli stessi proprietari terrieri sia esterno con la via pubblica per un costo di 683.200 euro. Il progetto fu bocciato perché non cantierabile mancando il nulla osta vincolo idrogeologico. Dopo che sulla vicenda si sono pronunciati prima il Tare e poi il CGA, l'ulteriore appello è stato deciso dal CGA nell'udienza del 17 aprile scorso. La regione ha negato il finanziamento richiesto in assenza del nulla osta attestante la compatibilità dell'opera con gli interessi pubblici tutelati dal vincolo idrogeologico esistente nella zona di interesse. L'associazione ha replicato che l'opera in questione non necessitasse di alcun nulla osta idrogeologico perché di modesta entità e che non implicasse movimenti di terra significativi e che non fosse necessario il nulla osta lo aveva ribadito anche il comune di Tripi che è dell'infrastruttura stradale. Per il CGA l'appello è in parte fondato e va parzialmente accolto con conseguente annullamento del provvedimento regionale per difetto di motivazione. La regione ora dovrà procedere al riesame del progetto.